Via libera della Camera la delega al governo che stoppa la legge sul salario minimo. Il testo va al Senato, ok definitivo di Palazzo Madama al DL Campi Flegrei, slitti invece al 18 dicembre l'arrivo della manovra in aula. Il governo annuncia l'addio alla via della seta, la farnesina scrive all'ambasciata cinese e il memorandum in scadenza marzo 2024 non sarà rinnovato. Incontro Meloni Mezzola a Palazzo Chigi in vista del Consiglio Europeo di metà mese. Consumi, sale a 8 miliardi la spesa degli italiani per i regali di Natale in aumento del 12% annuo. Pesa l'inflazione, oltre la metà della tredicesima destinata a mutui e beni di prima necessità. Allarme e clima, Copernicus il 2023 sarà l'anno più caldo della storia. A novembre temperatura media globale di 14 gradi centigradi ai massimi degli ultimi 30 anni. Simo dal Shift, aperta oggi la piattaforma per accedere ai 42 milioni di incentivi per il 2023 e il 2024. Al via anche le domande per il credito d'imposta sul gasolio acquistato a luglio 2022. Buona vita. Si è concluso con l'incontro a Palazzo Chigi con la Premier, Giorgia Meloni, il tour italiano della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, un colloquio proficuo che fa seguito a contatti regolari e propedeutico al Consiglio Europeo di metà mese. Tra i temi trattati è anche le alleanze in vista degli europei e la questione migranti. Intanto proprio ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di ratifica del protocollo tra Italia e Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria. Nei due centri per migranti che saranno realizzati in Albania potranno essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri stati membri dell'Unione Europea anche a seguito di operazioni di soccorso. Il provvedimento adesso dovrà passare al vaglio delle Camere. Via libera dall'esecutivo anche alla nuova disposizione normativa sul mercato tutelato nel settore della fornitura di energia elettrica. Decisione fanno sapere da Palazzo Chigi in linea con gli impegni assunti nell'ambito della terza rata del PNRR. È necessaria per garantire un graduale ed informato passaggio al mercato libero. Circa 4 milioni e mezzo di famiglie vulnerabili continueranno, in ogni caso, a usufruire di forniture di energia elettrica a prezzi calmierati, assicura la Presidenza del Consiglio. Si avvia invece ad essere convertito in legge il decreto di prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei che oggi ha ottenuto il via libera definitivo da parte di Palazzo Madama mentre invece alla Camera ha ancora alta l'attenzione sul salario minimo. Bagarre e cartelli in aula a pochi minuti dal voto finale che ha bloccato la proposta delle opposizioni sulla retribuzione minima di almeno 9 euro lordi all'ora e dato dunque il via libera al testo che adesso passa al Senato. Ma il Governo è impegnato anche sulla riforma del patto di stabilità domani al vaglio dell'Ecofin. La Premier Giorgia Miloni in un'intervista su RTL 125 ha spiegato questa mattina che sono ore serrate per questa trattativa e che è un momento molto delicato. Sì ad una soluzione ma senza ulteriori vincoli e regole troppo stringenti che rischiano peraltro di tradursi in un ostacolo alla crescita. A pochi giorni dall'Eurogruppo cui seguirà una cena informale con i ministri chiamati a tentare l'accordo in extremis sul nuovo patto europeo Giancarlo Giorgetti traccia la linea rossa della posizione italiana e facendo appello al realismo mette sul tavolo le condizioni italiane respingendo regole impossibili. Non possiamo accettare tutto quello che viene proposto dice il ministro in audizione alle commissioni riunite e bilancio di Camera e Senato difendendo la ragionevolezza della posizione italiana. Non è che siamo andati lì come i matti e non ci si può chiedere di andare contro l'interesse dell'Italia e secondo noi anche dell'Europa. Su deficit e debito la risposta è la serietà quindi possiamo anche accedere a regole sfidanti ma su regole impossibili da mantenere non credo per serietà si possa dire di sì. Ridurre l'elevato debito pubblico e i disavanzi eccessivi del resto è un obiettivo del governo, ribadisce il ministro ma l'Italia intende farlo in maniera realistica, graduale e sostenibile nel tempo in un assetto che protegga e incentivi gli investimenti. In questo quadro dunque le regole fiscali e di bilancio devono essere non il fine ma il mezzo, avverte Giorgetti. E a quattro anni di distanza dalla firma del Belt and Road Initiative l'Italia lascia definitivamente la nuova via della seta il progetto promosso dalla Cina che prevedeva grandi investimenti su infrastrutture in tutto il mondo. Il ministro degli esseri Antonio Tajani con una lettera inviata nei giorni scorsi ai rappresentanti diplomatici cinesi secondo quanto si apprende avrebbe infatti comunicato la decisione di non estendere la durata del memorandum in scadenza proprio a marzo 2024. E adesso continuiamo sul fronte degli esteri non è tardata ad arrivare la reazione del presidente ucraino Vladimir Zelensky alla notizia dello stallo del congresso sottunitense su ulteriori finanziamenti da destinare al conflitto proprio in Ucraina. A pochi minuti dall'incontro in videoconferenza con i senatori di Capitol Hill il leader di Kiev ha infatti disertato l'assemblea. Un'ipotesi quella dello stop ai nuovi aiuti all'Ucraina che ha provocato anche l'ira del presidente Joe Biden che ha tuonato il mancato suo segno a Kiev è una vera e propria follia. I fondi per aiutare l'Ucraina stanno per finire. Se il congresso non approverà nuove risorse il rischio è quello di mettere in ginocchio Kiev. La Casa Bianca lancia l'allarme e avverte. Non c'è alcuna riserva magica ai fondi disponibili. Siamo senza soldi e quasi fuori tempo massimo. In una lettera inviata il leader del congresso, Shalanda Yang, direttrice del budget di Joe Biden, ha esortato la Camera e il Senato ad agire e a farlo rapidamente perché il momento per aiutare la battaglia democratica dell'Ucraina contro la Russia è ora. Questo non è un problema del prossimo anno. Per la Casa Bianca sbloccare i fondi nelle prossime settimane è essenziale per evitare che la battaglia si prolunghi nel 2024, l'anno elettorale. Sostenere Kiev, ha ribadito l'amministrazione nella missiva, aiuta a prevenire un conflitto più ampio nel quale gli Stati Uniti sarebbero direttamente coinvolti contro la Russia nel caso in cui il presidente Vladimir Putin attaccasse un paese membro della Nato. L'appello della Casa Bianca è però destinato a cadere nel vuoto se non ci saranno aperture sull'emergenza a migranti. Molti repubblicani chiedono infatti che i fondi a Kiev siano legati a misure e risorse per rafforzare il confine con il Messico. Il congresso finora ha autorizzato 111 miliardi di dollari per l'Ucraina e per far fronte ad alcune necessità essenziali di sicurezza nazionale americane. In Medio Oriente prosegue l'offensiva di Israele al sud di Gaza con i tank giunti al centro di Caniunis, mentre nuovi raid si sono abbattuti proprio questa mattina in Cisgiordania. Intanto, secondo ufficiali della sicurezza israeliana, potrebbe volerci fino a un mese di combattimenti prima di una nuova tregua e dunque al rilascio di altri ostaggi. E proprio sulle sorti degli ostaggi si è espresso ieri il primo ministro Netanyahu, ammettendo che non possiamo riaverli tutti. Intanto l'escalation di tensioni ha spinto il Consiglio per la Sicurezza Nazionale di Israele e ha pubblicato una lista di paesi dove è forte il sentimento antisemita e per questo non consigliati agli israeliani. A Gaza, con l'inizio della guerra, il mondo è divenuto più pericoloso per gli israeliani che dovrebbero valutare bene se imbarcarsi su un aereo per viaggiare all'estero e nel caso adottare maggiori cautele. Questa è la conclusione a cui è giunto il Malala, il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che ha pubblicato una lista di 80 paesi dove i rischi per i visitatori israeliani sono cresciuti, anche perché il conflitto con Hamas ha innescato sentimenti antisemiti che si ritorcono contro le comunità ebraiche locali. L'avviso è giunto a pochi giorni dalla festività ebraica di Anoukha, che rappresenta un'occasione molto attesa per compiere viaggi di famiglia all'estero. Il Consiglio ha affermato di aver ravvisato maggiori sforzi da parte dell'Iran e dei suoi fiancheggiatori di compiere attentati contro israeliani. Decine di attacchi, ha aggiunto, sono stati sventati quest'anno, molti dei quali negli ultimi due mesi. Altre minacce giungono da Hamas e dalla jihad islamica, mentre preoccupano le estese espressioni di antisemitismo rilevate in diversi paesi. In Europa il paese più a rischio per gli israeliani è la Turchia di Erdogan, che si è schierato a sostegno di Hamas. Ovunque decidano di andare, gli israeliani faranno bene, secondo il Malala, a verificare in anticipo il clima politico nel luogo d'arrivo, a stare alla larga da manifestazioni e proteste, a mantenere un livello elevato di attenzione e a non esporre capi d'abbigliamento che li identifichino quali israeliani o ebrei. E adesso le principali notizie di economia. In Italia l'incidenza della tassazione sul PIL è superiore del 9% rispetto alla media dei paesi industrializzati. A rivelarlo è l'Ocse, secondo cui nel nostro paese il rapporto tasse-PIL nel 2022 è arrivato al 42,9%, in crescita dello 0,5% rispetto al 2021 e del 0,3% sul 2022. Inoltre dallo studio emerge come la penisola si confermi al quinto posto tra i paesi dell'area Ocse, dove in media il rapporto tasse-PIL è diminuito di 0,15 punti percentuali tra il 2021 e il 2022. E adesso parliamo di consumi. Cresce quest'anno la spesa degli italiani per i regali di Natale. Si tratta nel complesso di 8 miliardi, in crescita di circa il 12% rispetto al 2022. L'esborso medio pro capite ammonterà a 186 euro, una cifra comunque ancora lontana dai livelli pre-pandemia. Sulle tasche degli italiani continua a pesare l'inflazione. Oltre la metà della tredicesima sarà infatti destinata a mutui e a beni di prima necessità. Intanto il recente calo dell'indice dei prezzi al consumo lascia ben sperare i mercati finanziari europei, che scommettono su un prossimo taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Bene anche Piazza Affari, che resta sopra i 30.000 punti. Mentre in Italia la benzina tocca i minimi da un anno, scendendo al di sotto di 1,8 euro al litro, scende anche il prezzo del gas con la Rera, che stima un calo in molletta del 1,3% sui consumi di novembre. Il 2023 si avvia a diventare l'anno più caldo della storia. Secondo la stazione europea Copernicus, la temperatura media globale quest'anno è stata la più alta dell'era pre-industriale, con sei mesi e due stagioni da record. Novembre in particolare ha registrato una media di 14 gradi Celsius, ovvero 0,85 gradi in più della media degli ultimi 30 anni. E adesso parliamo del C-Modal Shift. Da oggi è aperta sul sito del MIT, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di RAM SPA, la piattaforma informatica per la presentazione delle domande per accedere ai 42 milioni di incentivi per l'annualità 2023-2024. Pubblicato anche il link per accedere all'Info Day, che si terrà domani, giovedì 7 dicembre, a partire dalle ore 15. Contestualmente sarà attivo un servizio di help desk telefonico, raggiungibile esclusivamente al numero 06 44 12 21 75. Intanto, ALIS, attraverso apposita circolare, ha informato gli associati interessati all'incentivo in merito alla documentazione necessaria per la presentazione delle domande. E sempre da oggi, fino alla mezzanotte del 14 dicembre, è attivo il portale dell'Agenzia delle Dogane, utile alla presentazione delle istanze per usufruire del credito d'imposta del 12% sull'acquisto di gasolio effettuato nel mese di luglio 2022. Potranno presentare le domande le imprese di trasporto di merci in conto terzi a 20 sede in Italia, che operano con veicoli di categoria Euro 5 o superiori di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate. Grimaldi Lines e Satispay, la app di mobile payment alternativa alle carte di credito e debito, hanno siglato un accordo che propone una modalità di pagamento immediata, efficace e sicura per coloro che acquistano i collegamenti marittimi proposti dalla compagnia di navigazione. Grande soddisfazione espressa dalla Head of Passenger Department di Grimaldi Lines, Francesca Marino, che ha affermato, rendiamo il viaggio via mare facile e comodo già dalla fase di prenotazione e di pagamento. In chiusura di telegiornale continuiamo a rivivere i momenti salienti dell'Assemblea 2023 di Alice con lo speciale di questa settimana. A partire dalle ore 21, infatti, sarà online su tutti i nostri canali web e social il video dedicato alla seconda giornata di lavori. Eccone una breve anticipazione. Mancava, mancava un'associazione, mancava... una comunità come quella di Alice, dove si dialoga di lavoro, di formazione, di sostenibilità, di ricerca, di sviluppo, di continuità territoriale. Oggi Alice c'è, voglio dire, quindi prendiamo e facciamo un bilancio, diciamo, della sostenibilità, ma anche dei piacevoli risultati ottenuti. Ed era l'ultima notizia della giornata, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e vi diamo appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata. Grazie. 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 Grazie.